Quello che vedete è Davide Giannoni, studente del quinto anno dell'Istituto Superiore Alberghiero Vincenzo Dandolo di Barniano, che nel weekend dal 21 al 23 febbraio sarà uno dei protagonisti del Trismoca Challenge 2015, la manifestazione all'interno della fiera di Golositalia Aliment che ospita la tappa bresciana bergamasca del campionato italiano baristi-caffetteria. Noi di Radio RBV siamo andati a trovare questo giovanissimo coffee lovers durante gli allenamenti a scuola, perché la squadra di Nel Paese dei Balocchi, il talk in onda ogni sabato in pressarata, fa il tifo proprio per lui. Infatti Davide sarà ospite telefonico della prossima puntata del 21 febbraio per raccontare le emozioni della sfida. Un in bocca al lupo quindi per il nostro Davide, certi che possa affrontare una buonissima competizione con risultati più che positivi.